e per questo vi presento Sofia, Ugrezia, Nicole e Roberta e quindi Sofia, parlaci del equilibrio, grazie. Allora, la condizione perché un corpo stia in equilibrio è che la somma di tutte le forze applicate a esso sia nulla. Il baricentro è il punto in cui si può immaginare che è concentrato tutto il peso di un oggetto. Tutti gli esperimenti che faremo noi oggi sono basati sull'equilibrio e praticamente noi faremo degli esempi in cui il baricentro cade all'interno del punto d'appoggio. Allora, il primo esperimento lo fa Roberta. Allora, Roberta adesso sta posizionata la livellula sulla punta della piramide e come possiamo vedere sta in equilibrio perché il suo baricentro appunto cade proprio all'interno del suo punto d'appoggio della piramide. Vedete dove poggia? E questo è lo stesso principio che viene usato anche dal portavino. Adesso Nicole infatti vi farà vedere che se prendiamo una bottiglia vuota, se prendiamo una bottiglia vuota e lo mettiamo nel portavino vediamo che questo cadrà. Mentre se facciamo lo stesso esperimento con la bottiglia piena, sempre per lo stesso principio perché il baricentro cade al di sotto del punto d'appoggio, questo si regge. guardate eh ragazzi, guardate eh. Adesso cambiamo esperimento, prendiamo. Adesso Sofia prenderà due barattoli. Come potete vedere i due barattoli rimangono in piedi poiché il baricentro cade esattamente al centro della base d'appoggio. Guardate sempre sul video lassù, vedete meglio, guardate eh. Benissimo, bravi. Questo cade sempre poiché il baricentro cade entro la posizione d'appoggio. Adesso facciamo un altro esperimento e Lucrezia prenderà una bottiglia vuota e nel tappo abbiamo infilzato uno stecchino. Posizionando le forchette in tre strade per loro e infilando uno stecchino vediamo che questo si viene in equilibrio. Guardate sul video eh. Puoi girare un attimo Giorgia, passalo di fianco. Guardate dove. Guardate. Perfetto. Possiamo usare. Possiamo provare anche a fare qualcosa di più. Allora però c'è c'è la possibilità che possa cadere. Lucrezia ora si abbasserà e proverà a soffiare in modo tale da far ruotare appena però prima darà fuoco a un pezzetto di questo stecchino per farvi capire che è supericulo. Vai. Questo 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 esperimento doveva fare una ragazza che purtroppo è assente quindi adesso la sottolinea un attimo. Ogni tanto soffre a farlo. Spendi e poi accendi. Brava. Perfetto. Andrò un pochino puoi fare ancora di più. Puoi fare ancora di più perché non credono che solo un punto che... Oh! Non succede niente. Non succede niente. Se vuoi? Perfetto. Grande. Ora proviamo a soffiare e andare a far ruotare. Piano, 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 piano. Questa è scienza ragazzi. Bravissima, bravissima. Grazie. Adesso voglio fare un esperimento con i piedi. Adesso lei sta posizionando i chiodi in modo alternato. Voce! 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 Allora, adesso Sofia sta posizionando i chiodi in modo alternato su un chiodo che fa come base, una base d'appoggio. Poi adesso metterà un chiodo sopra ed infine... Ecco, 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 grazie per il baricentro cade sul punto d'appoggio. Grazie. 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 Grazie.